Allora, vediamo di fare questo scherzo a questa signora, Renata, la mamma, che deve andare all'appuntamento dalla pulizia dei denti stamattina. Dai, vediamo se... Ah, ok, mentre parlo, mentre parlo mi stanno facendo il pit stop, capito? Graziano sta cambiando il mixer. Perché quello che hai detto te prima è una fesseria che se togli il mixer va via la musica, capito? Eh, non lo so, non so, magari è collegato. Ma infatti tu dici fesserie così a bummer, senza, non sei collegato col mondo tu, sei scollegato dal mondo proprio. Allora, 3, 3, 3, con l'hai ci messo sbaglio, Graziano, il numero, 12, 2, ok, ok, vai, 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 come si chiama la signora? Renata, Renata si chiama, Cristina. Grazie, mamma mia, tempo record, 20 secondi, quando c'è a me? 3 secondi. Ma anche un numero ho fatto, questo è, ha cambiato un mixer. Ma che bello, è nuovo. C-M-P? Pronto? È pronto la C-M-P di signora di Brescia per la pulizia dei denti alle ore 11? Sì. Sì, ecco, è stata avvertita insomma di quello che deve portare signora per la pulizia dei denti, è la prima volta che la fa da noi? Eh, sì, cosa è che devo portare? Eh, no, allora praticamente, noi sbianchiamo i denti col bicarbonato. Sì. Sì, ecco. E siccome abbiamo finito il bicarbonato, non so se si ferma al supermercato a comprarlo. Sì. Ne prende un sacchetto? Da un chilo? Pronto? Pronto? Dov'è? Mi sente? Sì, la sento male, la sento male signora, la sento male. Sì. Sì. Se si ferma al supermercato, ci fa sto favore insomma, prima di venire, così siamo, 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 siamo certi di averlo insomma, ecco. Cioè, per mettere la pulizia dei denti serve un chilo di bicarbonato. Un chilo di bicarbonato, esatto, 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 esatto. Solo per lei, per la marca che vuole, insomma, non c'è problema. Sì, mi sembra una cosa talmente strana, comunque. Allora, purtroppo l'abbiamo terminato, prima che, se no dobbiamo rimandare l'appuntamento signora, decida lei. No, 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 va bene, cioè, di solito, di solito non succedono queste cose, però... Eh, lo so, lo so, purtroppo non abbiamo, altrimenti dobbiamo rimandare l'appuntamento, faccia lei, insomma, se vuole, altrimenti si ferma un attimo al supermercato, cinque minuti, insomma, sono le nove, insomma, quindi fa in tempo signora. Va bene. Ok? Sì, sì, va bene, ok. Va bene, grazie, a dopo, arrivederci, arrivederci. Ma come? Ma come? Ma adesso, sarebbe bello, però, che si... Allora, figlio, non gli dire niente, sarebbe bellissimo. Ti prego. Se tu accompagni tua mamma, sarebbe bello, fagli il video di lei che si presenta dal dottore con il sacchetto di bicarbonato. Dice, signore, dottore, ho preso il bicarbonato, eccolo qua, sarebbe il top, sarebbe. Se tu reggi il gioco e ci mandi il video, diventi il campione del mondo, veramente... Va bene, ragazzi, io direi... Io direi che possiamo anche chiudere. Chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo! Chiudiamo più! Che è meglio, ragazzi!